Chi ancora una volta non mi è piaciuto e ho trovato davvero a livello da casting, neanche da serale, è Jacopo. Jacopo o fa qualcosa o per me non merita di andare avanti, fra le cose peggiori questo piccolo grande amore che è stato davvero imbarazzante, dico imbarazzante perché ho provato imbarazzo per lui, non me l'aspettavo, non credevo, ero già dubbioso dalla scorsa puntata ma a questo livello no. Che poi a lui non sia piaciuta la versione di questo piccolo grande amore è un problema tra virgolette suo, ma imbarazzante mi sembra un po' troppo, è un suo pensiero, altri hanno pensieri diversi che si tenga il suo pensiero. Grazie.